cari amici e buonasera come state tutto bene allora questa sera per me è molto importante perché vi confesso che questa è una diretta complicata sarà per me personalmente è tra le più belle mai fatte perché sto parlando del mio film preferito quindi oggi sarà un discorso che desterà molto sulla parte empatica e emozionale perché dal punto di vista tecnico dal punto di vista fotografico interpretativo anche doppiato credo che sia una cosa meravigliosa questo film di cosa posso dirvi posso dire che questa sera sarà veramente importante sarà veramente importante quindi spero che siate in tanti perché ne sentirete ne vedrete delle belle è una diretta di simbologia come piace a noi per chi non mi conoscesse io mi occupo di simbologia ormai gli archetipi faccio ormai dei corsi in merito a questo cosa di particolare questo film allora shining per me rappresenta proprio l'inizio di tutto io ho iniziato da male il mistero soprattutto per questo per questo film perché è per me era incomprensibile io la prima volta che vedi ero piccolo la prima volta che vedi shining non riuscivo a capire se era un film diciamo un thriller un film poliziesco un film horror non lo capivo perché tutte le volte che prestavo attenzione credevo che la paura venisse da me perché tutto sembrava tranne un film horror perché i film horror all'epoca e anche adesso giocano molto sul nascondere sul non far vedere qui qui Stanley Kubrick fa vedere tutto cioè praticamente mostra tutto ha un'onestà in questo film dove nei film horror questo non accade nei film horror non saprai mai chi è l'assassino tanto pensate che ci sono stati dei pareri contrastanti fra il colui che ha diciamo inventato questo film che steven king e di cui Stanley Kubrick prese i diritti diciamo della sceneggiatura e lo riscrisse tutto intanto non piace moltissimo è risaputo che steven king non piace tanto questo film shining perché questa sera parleremo non del libro parleremo del film perché il film ha dei messaggi esoterici potentissimi in realtà Stanley Kubrick prese questo film non per fare una copia del libro lo prese per cercare di creare una sovrastruttura in seguito per cercare di dare un messaggio questa sera capiremo qual è questo messaggio intanto è un film che è stato letto in tanti piani di lettura sono stati fatte tante interpretazioni psicologiche chiave naziste chiave storiche tante io questa sera proverò a fare un'ulteriore analisi alcune cose magari le sentirete perché c'è un bellissimo documentario su sky non so se ancora dove parla su diciamo di questo di questo bellissimo film e fa un'analisi meravigliosa andatelo a vedere perché merita davvero detto questo io presumo che questo Stanley Kubrick diciamo creò tutto alla luce del sole e il film credo che Stanley Kubrick sia il maestro della simbologia dei film perché questo film ve lo posso giurare lo vedete lo rivedete lo rivedete lo rivedete e trovate sempre qualcosa trovate sempre qualcosa io questa sera parlerò circa del 70 per cento della simbologia che c'è all'interno di questo film ma ce n'è ancora solo che sarebbe stato una paura e sinceramente diventava estenuante detto questo sulla fiducia mettete un like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto perché questa sera mettetevi comodi perché ce la prendiamo tutta stasera siamo solamente io e voi e soprattutto la cosa che ho amato di più shining da lì è iniziata la mia passione per l'arcano per il mistero scusate bere un po perché scusatemi ma ho finito di di editarla a dalle due che faccio l'edita diciamo cerco di lavorare su questa diretta non mi sono fermato un attimo sono e ora sono veramente anche stanco di questo però detto questo allora intanto il film non piaceva all'immediatore perché il film nasce soprattutto da un'ispirazione di steven king si trovava mi sembra in questo albergo e da lontano vedeva delle montagne tutto ad un tratto nella camera di sembra 107 in pratica ebbe una sensazione particolare da lì nacque l'ispirazione soggetto per questo figlio di questo libro e poi sappiamo com'è andata fecero questo film il film ripeto troverete tanta onestà da parte di star le cubiche non vuole celare nulla o meglio mette tutto davanti dovete essere voi a capirlo io mi sono fatto una teoria ne esistono tante e la gente non ha ancora capito non c'è una vera spiegazione su questo film io sono convinto di esserci arrivato perché l'ho visto l'ho rivisto tante volte il film che ho visto più nella mia vita l'ho visto una cinquantina di volte non sto scherzando e alla fine partiamo intanto partiamo con le slide faccio una prova tecnica ditemi se mi sentite allora ecco ditemi se mi sentite perché dovrò girare molto spesso le slide perché c'è questo problema tecnico sì sicuramente allora rispondo sally kubrick era un esperto di isoterismo assolutamente lo era questo film va bene andiamo avanti sarà un po lento perché per girare le slide si crea sempre un casino shining inizia con questa bellissima carrellata di questo di questo effetto di questa inquadratura tratta ovviamente da un elicottero e e noi incominciamo emergerci all'interno di questo bellissimo mondo the shining la luccicanza viene spiegato durante il film in pratica si parla di doni di poteri paranormali alcuni individui all'interno di questo film hanno dei doni si riconoscono fra di loro e questi doni sono la sensitività sono dei sensitivi e percepiscono il regno dei morti ora si ritrovano in una specie di limbo infernale che è questo over look hotel significa girati dall'altra parte oppure può significare guarda oltre hotel la storia praticamente di questo film ve la dico in breve è stato nasce questo hotel nel 1900 ma venne edificato sopra un cimitero indiano evidentemente un cimitero molto sacro tanto che raccontano nel film che durante la costruzione venivano attaccati costantemente dai nativi americani che non sopportavano minimamente non sopportavano di di stare diciamo di aver sconsacrato questo il loro territorio il loro terreno cosa accade accade che la costruzione di questo overlook hotel non va a buon fine perché nel 1920 21 evidentemente accaduto qualcosa sta le cupri che tutto il tempo cerca in tutti i modi di raccontarci e dirci che è accaduto qualcosa e noi questa sera scopriremo che cosa è accaduto piano piano lo faremo insieme ecco vedete questa è la carrellata dell'hotel a questa richiama tantissimo richiama tantissimo come vedete la casa richiama delle abitazioni diciamo delle tende indiane è un cerca di sposare il paesaggio di non profanare l'architettura cerca di non profanare il paesaggio non è un eco mostro che si vede solitamente cerca di abbracciare quasi l'overlook hotel fa parte quasi di tutto l'ambiente come se fosse stato lì da secoli non è qualcosa di invasivo e invece lo è perché questo cimitero in realtà secondo me era qualcosa di più potere evidentemente c'era qualche divinità e quando viene profanata all'interno diciamo quando viene profanato il cimitero evidentemente si risveglia qualcosa e ovviamente eh risvegliando qualcosa e disturbando il sonno degli eterni gli occidentali che cosa fanno questo film è una continua politica contro l'occidentalizzazione l'invasione eh delle strutture occidentali che profanano ehm le strutture di indiani d'america questo è il nostro personaggio Jack Torrance da fin dall'inizio c'è una regola semantica che ehm conosciamo tutti quelli che sono addetti ai lavori in poche parole il il personaggi principali devono rappresentare il loro la loro identità sociale ancora prima di parlare cioè se io vedo un papà e una bambina lo devo capire indipendentemente dal dialogo si deve capire questa si chiama semantica eh Stephen King non sopportava il film perché fin dall'inizio infatti è un errore questo voluto fin dall'inizio lo sanno pure i canegatti il personaggio di Jack Nicholson si percepisce che è un cattivo non è Jack non è una persona per bene nel libro invece il personaggio va crescendo fino a quando arriva la alla possessione all'invasamento nel libro nel film invece per tutto il tempo appena si presenta Jack riconosciamo che è un cattivo questo già è un errore dal punto di vista della sceneggiatura e della semantica del soggetto ma questo Kubrick lo fece apposta voleva già fin dall'inizio un personaggio demoniaco cattivo ehm che si presagiva tanto che alcuni psicologi ehm facendo un'analisi del film si capisce che addirittura eh c'è un problema pregresso in famiglia fra Jack il figlio e la e la madre addirittura alcuni psicologi dicono che in realtà Jack in passato avrebbe abusato addirittura del figlio in poche parole è un individuo negativo nel film è un personaggio non è un personaggio positivo poi non aiuta il fatto che la fisionomia di Jack Nicholson è proprio luciferina quindi è proprio scelto per questo per dire signori si presenta questo individuo fin dall'inizio fate caso ok adesso vi dirò delle cose che evidentemente alcune l'avrete già sentite ma alcune cose non ci avete mai fatto caso eppure un film di quarant'anni vi ripeto siamo sono un po emozionato perché stiamo parlando del film che amo più al mondo quindi potete immaginare quanto eh stia dando su questa su questa diretta infatti sono emozionatissimo la prima cosa che vediamo è che Jack è un guardiano un anzi no è uno scrittore uno scrittore in crisi cerca viene eh diciamo chiamato da questa agenzia per poi partecipare parlare direttamente con i direttori di questo hotel Overlook Hotel lui si occuperà di fare il guardiano durante l'inverno la stagione invernale è fredda e rigida viene chiuso e di conseguenza ci vuole qualcuno che ehm bade al al albergo che lo riscaldi che cerchi di illuminarlo cioè di farlo vivere alla fine cosa accade? Accade che Jack si presenta per fare questa persona distinta è un ex scrittore uno scrittore diciamo in crisi e allora approfitta di questo eh posto per rimanere isolato e scrivere e avere questa cosiddetta ispirazione ma Jack ehm vediamo che come si comporta ecco fateci caso allora Jack Jack calpesta fate caso al pavimento il pavimento ha degli occhi e al centro ha una geometria sacra una geometria evidentemente rappresentante Dio Jack cammina sempre sugli stessi simboli quelli dell'occhio e fateci caso vedete che c'è quell'occhio che spargia con quel rombo quella è una geometria particolare Jack calpesta solo quelli e per tutto il film tutto il film negherà ed eviterà questo fiore questo fiore evidentemente rappresenta secondo eh alcuni alcuni testi di 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 geometria sacra o o di gematria in poche parole il fiore rappresenta l'emanazione ultima che si crea quando noi mettiamo due triangoli eh sovrapposti per creare eh la parte geometrica per poi eh mettere mh ai lati la parte eh concentrica cioè fare dei triangoli poi lateralmente mettere delle eh dei cerchi concentrici fino a creare quella cosiddetta rosa o fiore quella rappresenta l'apice supremo della realizzazione divina cioè la parte maschile scopre la parte femminile crea questa rosa in tutte le geometrie del mondo anche quella diciamo americana eh degli indiani d'America si rappresenta sempre con questa sorta di geometria quindi è qualcosa assoluto tutto il film fateci caso andatelo a rivedere eh si evita sempre di toccare questo quindi già è un presagio iniziamo a a guardare sempre il pavimento Jack si presenta ed entra in studio e trova eh così il signor eh eh che si chiama Stuart Hultman si chiama così e questo è questo è pieno di simbologia in realtà si presenta al direttore fanno questo colloquio eh Jack dice che ci ha messo meno di tre ore cosa accade il direttore eh dell'hotel che eh lascerà l'hotel e cerca un custode e fa questo colloquio con 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 Jack dice di chiamare una persona un individuo che si chiama Bill Watson ecco Bill Watson è la figura più enigmatica di eh Shining non parla mai Bill Watson viene convocato non so se ci sono dei pezzi eh dove viene dei direttori cazzo dove direttamente parla viene chiamato questo individuo Bill Watson e si siede accanto a Jack il direttore inizia a fare questo colloquio iniziamo a eh a capire chi è questo direttore si chiama Stuart Hullman Hullman è qualcosa di germanico è è qualcosa di nord europeo come è qualcosa attinente all'uomo Hullman sembra qualcosa di che ma Stuart il nome significa guardiano guardiano della casa quindi lui è il direttore attualmente in essere è colui che ha tenuto in custodia il guardiano ed è un individuo positivo non è negativo quindi in uno stato di diciamo di iniziazione così di in uno stato di di purezza e benessere Stuart Hullman è un direttore positivo ma attenzione per tutto il film troveremo sempre alcune iniziali S e U lo vedremo anche dopo questa S e U che cosa sono questa S e U beh se dobbiamo guardarlo sotto un altro aspetto la S potrebbe essere il serpente la U potrebbe essere le corna quindi è il guardiano attualmente in essere fa questo colloquio con Jack e qui abbiamo Bill Watson Bill Watson non parla mai per tutto il film fateci caso non è una comparsa perché è una persona che viene indicata all'interno della sceneggiatura solitamente quando sono le comparse e le le comparse stanno molto dietro non parlano hanno una disposizione diversa alla sceneggiatura lui è accanto è un personaggio lui parla solo con Jack lo saluta dice sì signore lo saluta e basta e quando entra saluta solo lui è un personaggio enigmatico ha la faccia molto vicina attenzione richiama moltissimo gli indiani ha un aspetto eh eh busta in tedesco Ullmann busta in tedesco potrebbe essere busta di uomo no eh non non capisco non so questo quindi che succede l'indiano questo rappresenta un individuo che non parla per tutto il film non parla è famoso il detto che gli indiani non parlano sopra nelle fotografie di questa immagine troviamo tutti indiani d'america per tutto il film non li troveremo quasi mai troveremo sempre dei ragazzini delle cose ma mai fotografie riguardante i discendenti indiani questo è un individuo particolare Bill Watson riguarda anche Buffalo Bill potrebbe essere anche un Buffalo Bill riguardante il periodo in cui c'erano le guerre diciamo fra i indiani d'America e le guerre di secessione sappiamo la storia americana no quindi potrebbe richiamare qualcosa di riguardante l'America lui è un individuo incredibile lo troverete ovunque i primi 15 minuti c'è sempre lui ma non dice una parola segue sempre gli altri questa è un'entità morta cioè rappresenta il passato del cimitero l'antica civiltà è colui che non può più parlare sta sempre con loro si rivolge solo a Jack e basta è un personaggio incredibile sta sempre lì e nessuno ci fa caso cosa succede iniziamo Jack praticamente viene avvisato andiamo un attimo indietro perché volevo dirvi una cosa Jack durante il colloquio parla con Ullman parla con Ullman e gli dice noi cerchiamo un guardiano lui dice sì è perfetto per me io devo scrivere la mia famiglia sarà entusiasta però Stuart è pure sincero lo vedete il film ha sempre una attenzione alla sincerità non vuole mentire mai non è un film horror dove vuol prendere in giro le persone non ci sono uno jump cut non c'è nulla è tutto lì Stuart rende partecipe Jack che il il guardiano precedente si è ammazzato però prima di uccidersi ha ucciso così le sue gemelle le sue figlie sua moglie massacrandole totalmente e poi si è ammazzato dicono che ha avuto una forte crisi quindi il vecchio guardiano quello precedente ha fatto questa brutta fine ora volevo dire a lei la spaventa questa cosa e Stuart Ullman dice lo domanda a Jack che fa no non è un problema perché Jack vuole assolutamente questo posto quindi già questo risulta quasi naturale un uomo che viene avvisato che c'è stata un genocidio del genere riesce ad accettarlo lo stesso con tranquillità voi fate caso al film il film a delle delle forzature volute dal regista dove Jack Nicholson da questo si capisce Jack si capisce che è un elemento negativo si si capisce che un elemento negativo perché perché non è normale che uno va a fare un colloquio dicono senta vuole fare lei questo il guardiano solo per tre quattro mesi sei mesi quant'è con la sua famiglia che dice accetta sì non è un problema io cerco proprio un lavoro del genere la mia famiglia sarà entusiasta sì però le devo dire che quello di prima ha sguardato tutti cioè nei posti dove lei andrà a dormire ci saranno dei morti ma non è un problema la mia famiglia è contenta mia moglie non vede loro immaginate andare in famiglia e dire sì ho preso un posto dove quello di prima si è sguardato tutto nessuno ci andrebbe invece lui è proprio attenzione lui è proprio eccitato da questa cosa di proprio di partecipare e quindi cosa succede che si va avanti si va avanti e in pratica lui chiama la famiglia chiama la famiglia e noi facciamo la conoscenza del resto della famiglia Wendy e il bambino Danny casualmente Wendy è vestita sempre in un modo particolare richiama sempre gli indiani d'america fin dall'inizio delle prime immagini Wendy dietro la schiena c'ha una fantasia indiana lei non sa nulla degli indiani non sa il marito dove sta andando a lavorare non conosce l'overbo l'hotel non non sa nulla però si presagisce che lei abbia già un richiamo alla questa è una classica fantasia indiana degli abiti indiani quindi questa è una cosa particolare c'è un altro discorso Wendy noi veniamo a conoscenza diciamo diciamo che c'è questo parallelismo nel frattempo che mentre Jack sta facendo il colloquio noi conosciamo sia il bambino Danny che Wendy Wendy significa luminosa occhio se si parla di l'etimologia del nome di Wendy è luminosa lei è sempre vestita come gli indiani e suo figlio parla di luccicanza shining quindi questo ci deve far pensare che questo è un personaggio molto positivo quindi vediamo cosa sta leggendo sta leggendo sta leggendo un libro particolare il libro è vedete il libro è The Chatter in the Rye cos'è The Chatter in the Rye? The Chatter in the Rye è un film che in italiano si chiama ha un altro titolo ma significa il l'hanno dovuto cambiare in italiano perché è intraducibile non c'è una traduzione nel mondo di questo titolo fatto da Salincher questo libro parla parla praticamente di significa in italiano potrebbe essere stato l'acchiappatore di segale il ricevitore di segale ma il ricevitore nel senso di baseball no il ricevitore di segale non è così è stato chiamato in un altro nome e e quindi va bene tipo il giovane Holden viene chiamato così e le storie di questo ragazzo qua perché la segale la segale in America era chiamata era usata anche dagli indiani d'America perché la cosiddetta famosa segale cornuta faceva sì che i sciamani entravano nello stato del regno dei morti attraverso questa pianta quindi il fatto che stia leggendo un libro dove c'è un'appartenenza alla segale tra l'altro il libro è famoso perché c'è un'attinenza dove il personaggio principale viene chiamato salvatore di bambini e in questo caso dobbiamo ammettere che lei salva suo figlio in tutti i sensi quindi già vedete è pieno trasuda di particolari incredibili qui veniamo a conoscenza di Danny Danny è a casa la madre parla con lui in poche parole cosa succede succede che vengono a conoscenza del marito che ha passato il colloquio vanno dovranno cambiare vita e Danny non vuole andare nell'hotel allora c'è un piccolo giochetto che fa Danny con la voce crea un suo doppio la mamma pensa che siccome il bambino è spesso solo si è creato un amico immaginario è quello che pensano tutte le mamme quando il bambino gioca da solo l'abbiamo fatto tutti solo che ogni volta che Danny invoca questo chiamato Tony vedete la scena famosa di Danny che parla attraverso il dito imitando una voce gutturale che dice no non voglio andare lì e questo è rimasto famoso perché in realtà la mamma ha sempre pensato che Tony è un individuo in realtà immaginario Tony no Tony è un'entità che sta vicino a Danny perché Danny viene dall'ebraico da Enel che significa il giudice di Dio il mio giudice è Dio quindi in questo caso Danny rappresenta colui che è molto vicino alla parte del bene del mio giudice è Dio quindi dentro c'è qualcuno che gli dice cosa fare quindi se il mio giudice è Dio nel suo nome stesso indica che ci sono una dualità di un giudice che è prettamente vicino a Dio quindi Danny in realtà alla famiglia viene visto dall'esterno come un bambino che parla attraverso questo amico immaginario io invece no lui ha non è una doppia personalità lui ha una presenza vicina decidono di andare all'overlook hotel tutto il tempo però si vedono delle scene in bagno dove c'è il Danny che insieme a Tony parla e dicono Tony perché non vuoi andare all'overlook hotel si cambia scusatemi perché ho dei problemi audio cosa succede succede che questo Tony dentro di lui ha già visto tutto quello che c'è all'overlook hotel e non vuole andarci perché sa che ci sono presenze misteriose ma lo dice al bambino il bambino invece non vuole sapere ma Tony non gli dice nulla per non farlo spaventare cioè questo Tony ha un'intelligenza a passere non può essere perché sa già tutto durante il viaggio lo questa è la famigliola guardate quanto sono contenti di viaggiare lui è sempre un personaggio jack negativo la madre cerca di fare un po' da tramite perché è quella riparatrice e il figlio non ha totalmente rapporti col padre e cosa di che cosa parlano durante il viaggio stanno parlando di una storia di cannibalismo che alcuni uomini sono rimasti forzatamente in mezzo alle nevi e hanno deciso di cibarsi fra di loro e così sono delle belle cose che vengono dette ai bambini quindi potete immaginare sembra quasi la famiglia Adams altra scena jack è seduto sta aspettando la famiglia fuori a giocare il figlio arrivano finalmente all'overlook hotel decidono praticamente di andare a giocare vedono un po come l'ambiente normale un bambino la madre va presso il bambino è tutto ok le ci sono i bagagli e il direttore lo riceve sono pronti per andare via e lasciare tutto l'hotel in mano jack la presenza la presenza come vedete il famoso bill watson che non parla con nessuno si mette dietro dietro jack attenzione fa un movimento stranissimo secondo me dal punto di vista registrico è voluto e forzato non è un errore lui si mette proprio vicino cercando di centrare il lampadario fate caso sempre al pavimento e ai lampadari questo film proprio parlano potrebbe essere scritto solamente con i pavimenti e i lampadari di quanto è completo si mette dietro le spalle e che cosa fa saluta solo jack e per tutto tempo non parlerà più con nessuno e si mette sopra sopra un lampadario che ha un aspetto quasi funereo qui arriviamo arriviamo che danny gioca a freccette mentre sta giocando a freccette come vedete ci sono sempre fotografie dappertutto poi vi spiegherò che cosa sono queste fotografie e che entra gioca a freccette e ha una visione mentre prende l'ultima freccetta si gira di spalle e vede quello che aveva già visto in precedenza ma era solamente una previsione adesso ha la conferma che all'interno dell'hotel ci sono delle entità e chi vede le nostre amiche gemelle le nostre amiche gemelle che sono state uccise dal vecchio guardiano barry fu colui che uccise le sue figlie e sua moglie fateci caso a occhio ci sono due gemelle e guardate cosa c'è dietro le gemelle guardate c'è un bel moloch vedete dietro le gemelle dietro la porta quindi c'è un exit un'uscita c'è una porta e c'è praticamente sì le gemelle possono essere duale la simbologia dello specchio il fatto che sono diablo che sono divise tutto il resto ma dietro le gemelle il regista pone un un modo diciamo e sulla sinistra c'è il progetto monarch sono due cose che sono state messe così a caso non mi sembra tra l'altro c'è pure sul monarch c'è un sd ci sono delle iniziali che non sono ancora riuscite a decifrare c'è un simbolo molto particolare che sembra quasi un simbolo quasi satanico sembra il fatto che abbia messo il progetto monarch sappiamo mk ultra monarch e tutto il resto vicino all'immagine del moloch sotto le bambine bambine sappiamo che sono state uccise cosa ci vuole dire il regista ci vuole forse dire che qui che c'è un progetto di sacrifici di bambini umani riguardante il moloch e che c'è un progetto pseudo scientifico che veniva portato avanti iniziato diciamo anche fine anni settanta dove era abbastanza in atto che le due cose siano insieme perché vedete io la regista qui non nasconde nulla qui è tutto palese è tutto esposto è molto generoso da questo punto di vista però il fatto che mette un monarch un progetto monarch con un moloch sotto con due bambine che sappiamo che sono degli spiriti la cosa mi lascia pensare quindi le bambine sì sono state sacrificate avete capito un po il gioco quindi c'è una doppia interpretazione piano piano si sta per scoprire che il il cimitero il cimitero che è stato vessato è profanato dagli occidentali è stata creata una maledizione è un po complessa la cosa però vi garantisco che a fine serata vi dirò cosa c'è dietro questo questo film ecco qui come vedete ci sono il direttore fa fare visita a tutto l'hotel giustamente jack è l'unico che non gliene frega nulla guardate guardate cosa guardate cosa abbiamo qui il direttore che fa da pripista che fa un po da cicerone lei la moglie che ha molta confidenza e jack non gliene frega nulla cioè lui deve venire a lavorare lì e ha un atteggiamento strafuttente dovrebbe essere il primo accanto al direttore a a farsi vedere attento è lui quello che sta prendendo la responsabilità invece e non gliene frega nulla è un atteggiamento a livello semantico lui sta raccontando che lì non ci starà oppure c'è un'altra versione attenzione non vorrei che jack lì c'è sempre stato perché ha troppa familiarità ecco perché non gliene frega nulla perché non è interessato a tutto quello che deve fare da solo cioè chi deve fare il guardiano e quando ti danno le disposizioni non ci metti e non ti metti a parlare con la moglie ti metti a parlare con l'interessato lui gliene frega altamente che perché ha questo atteggiamento e chi abbiamo dietro abbiamo dietro sempre lui lui li seguirà sempre da quarto questa si chiama sala colorado che richiama tantissimo il luogo sempre degli indiani e tutto il resto c'è una bellissima carrellata un bel piano sequenza dove segue i nostri amici e vediamo che ci sono queste immagini tutto il film tutto il film è praticamente tappezzato di queste fotografie e uno potrebbe dire sì in tutti i hotel siccome un hotel di di cento anni c'ha 70 anni questo hotel dal 1900 sono 1979 il film è datato anni ottanta inizio fine anni settanta il film il libro diciamo c'ha 70 anni un sacco di persone avranno fatto delle fotografie no sono tutte dello stesso periodo il hotel è totalmente costernato totalmente tappezzato di fotografie di un'epoca sola non ci sono non c'è un crescendo non ci sono fotografie gli anni 50 anni 60 fotografie a colori niente niente di tutto ciò sono solo immagini di una certa epoca una certa datazione chissà perché in realtà sono le anime imprigionate state iniziando a capire il gioco poi vi spiegherò tutto sopra vedete nella colorado hotel ci sono delle geometrie che riguardano una un aspetto piramidale con un rombo al centro che è quello sempre quello di sinistra e quello sempre che calpesta jack quello di destra quello che vedete praticamente alla vostra destra e quello che richiama moltissimo le geometrie sacre del fiore quello che non toccherà mai jack sono due e un duale sì molti dicono rappresenta sembra tantissimo la copertina dei beatles e casualmente dove c'era il famoso la famosa teoria con del complotto che paul mccaten era l'unico a piedi scalzi quindi colui che era morto che una chiara un chiaro segnale funereo togliere le scarpe e nella stessa posizione di paul mccatenay e come sempre ritorniamo sempre la stessa linea come un fila indiana il direttore parla con la moglie come se la moglie dovesse fare la guardiana il guardiano se ne frega altamente cioè jack è trattato come se fosse un pupazzo o come colui o che c'è già stato quindi non gli interessa o che colui che non prenderà le redini dell'hotel si riguarda tantissimo assomiglia moltissimo alla scena dei beatles e jack si trova casualmente nella stessa posizione dove c'era paul mccatenay che non aveva le scarpe qui non mi avete sentito scusatemi io dei problemi audio ditemelo ditemi se mi avete sentito qui abbiamo praticamente iniziamo con ditemi se mi state sentendo se mi avete sentito a quello che ho detto prima per favore e cosa accade praticamente qui veniamo a conoscenza della figura a me più cara e la figura del di dick chi è dick dick è lo sciamano di che il guardiano il combattente di questo hotel c'è qualcosa in lui che mi lascia pensare la sua età la sua esperienza il suo essere sornione mi lascia pensare che lui era il guardiano il protettore di questo luogo cioè è colui che cerca di mantenere contenere le anime dannate dentro questo hotel anche lui ha possiede la luccicanza riconosce subito indenni chiamandolo doc questa parola è un nomignolo che viene dato in famiglia e succede una cosa particolare ora vi faccio vedere che ci sono alcune cose strane lui in realtà è lo sciamano è il capo indiano ancora in vita che tiene da guardiano queste anime dannate perché è stato profanato questo questo posto ha fatto risvegliare tanti defunti che si sono infuriati evidentemente per qualche motivo ora qui c'è un errore voluto di che lo chef parla con la moglie gli fa vedere la cucina gli fa vedere le provviste e quant'altro gli racconta che è un bellissimo posto si troverà bene c'è tanto da fare ma non mangerà mai la stessa cosa per un anno intero deve stare tranquilla gli fa vedere la sala frigorifera mentre apre per far vedere la sala frigorifera lui inizia a elencare tutte le varie carni ma c'è un errore clamoroso in questo film ci sono errori voluti attenzione starle è il più grande regista del mondo ma perché fa questi errori guardate state vedendo tutto lui apre la cella frigorifera quando fa entrare tutti e riesce che riesce cambiato qualcosa quando escono dalla sala frigorifera l'ambientazione totalmente cambiata tutti dicono sì potrebbe essere un'altra porta no perché chi studia regia sa che quando si apre una porta dall'altra parte quando si fa un'inquadratura impossibile cioè si fa il controcampo non puoi aprire in automatico un altro luogo devi far passare un secondo se tu fai passare un secondo allora sono due porte se tu apri quella e direttamente la apri e poi la richiudi in questo modo è un errore voluto non è un errore fatto apposta diciamo così per sbaglio no lui se fateci caso apre chiude e cambia tutto lo sfondo in alto in realtà stadi cubi ci vuole far credere che l'hotel cambia perché ha due dimensioni quindi il fatto che tu apri una porta non è detto che tu esca da quella da dove sei entrato questo è il messaggio per tutto il tempo in questo film cambieranno pareti si sposteranno cose perché perché il regista ti sta facendo capire che questo overlook hotel ha due piani di esistenza uno dannato e uno reale diciamo mentre sono nel all'interno dei diciamo all'interno del del magazzino dietro se voi ci fate caso dietro a dic lo sciamano cosa c'è la figura di un capo indiano vedete non è un caso perché poi nelle altre inquadrature questa scatoletta non c'è più appare solo in questa immagine poi andate a vedere nelle altre inquadrature scompare è un segnale un chiaro segnale di stalli per farci capire che lui è il capo indiano è lo sciamano il guardiano di questo posto ok poi dic dic possiamo dire un etimologia vicina a teodoro mi sembra che viene sempre dal all'interno della germania teodoro che significa potente dio 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 forte potente quindi lui è un'immagine estremamente positiva finalmente si riuniscono tutti tutti come sempre c'è bill watson sempre dietro che non parlerà mai e in questo momento succede una cosa strana lui inizia a chiamare per tutto il tempo il dick lo chef inizia a parlare lo sciamano chiamiamolo così inizia a parlare con danny chiamandolo doc e la madre molto intelligente dice wendy dice ma scusi ma come fa a sapere che noi nel privato nell'intimo lo chiamiamo doc e lui fa beh forse vi sarà scappato così l'ho sentito per sbaglio e va no non abbiamo detto nulla noi lo chiamiamo doc solo nel privato perché lei sa che noi lo chiamiamo doc in realtà nel mondo esoterico loro stanno parlando diciamo normalmente ma dick e lo sciamano e danny stanno già parlando in maniera telepatica si conoscono già e però danny non lo dice poi un'altra cosa vediamo se riusciamo a vederlo tutti e due hanno una cosa in comune per tutto il tempo hanno sempre qualcosa di attinenza ai volatili sia jack che danny e lo sciamano hanno sempre qualcosa riferito a le ali al volo anche jack in realtà il giubbottino che c'è dietro danny c'è scritto flyer che riguarda qualcosa del volo ok c'è sempre qualcosa inerente al volo qui qui è l'immagine madre un'immagine importante perché dick confessa che lui sa che c'ha la luccicanza gli dice senti danny ma tu sei sei come me tu hai un dono noi abbiamo la luccicanza tu lo so che mi puoi ascoltare anche quando non parliamo e danny si spaventa danny sta zitto perché si difende anche perché il toni l'entità che sta dentro di lui che lo aiuta l'entità guardiana diciamo di di danny gli ha detto di non parlare con nessuno dentro l'hotel invece dick dick è furbo e dice senti ma in realtà dimmi la verità tu sai che noi siamo diversi noi abbiamo la luccicanza e questa cosa ce la tramandiamo siamo degli esseri speciali e finalmente lo confessa danny prende confidenza confessa di toni e qui di chi dice che cosa ti dice toni fa che qui sono successe cose brutte questo hotel maledetto qui dick gli dice lascia sta ecco qui dick mente mente al bambino danny dice lascia stare perché vedi sono come le pagine di un libro e le immagini che tu vedi che vedrai qui non sono vere sono frutto di un passato che rimangono qui cioè lui racconta lo spirito lo spirito è una cosa imprigionata che rimane sempre a fare la stessa cosa quindi lui dice che in realtà l'hoverluc hotel quello che è successo non è vero è tutto finto qui sta mentendo perché in realtà dick sa che lui ha sempre tenuto a bada l'entità che stanno lì con la sua forza qui capisce che davanti c'è un bambino poi dice mi dice ma cos'è successo danny fa cos'è successo nella 237 nella 237 lui in quel momento appena sente il nome della 237 dice io è meglio che tu non entrai mai là dentro chi ti ha detto della 237 toni me l'ha detto e non entrare mai alla 237 ok e li rimangono a parlare nel frattempo fanno il giro della casa e si nella stanza da letto dove dormiranno loro nella stanza letto di denny c'è questa immagine la figura di un orso occhio che qui entra la figura dell'orso tutte le immagini di denny c'è sempre un orsacchiotto un orso in alcuni alcuni hanno teorizzato che l'orso sarebbe jack che ha violentato il secondo me l'orso rappresenta la bestia è un presagio di quello che diventerà il padre che cercherà di uccidere il figlio questo è vedete questa immagine all'altezza della testa diciamo del letto c'è questo orso e questo lo rivedremo sempre questo orso 237 qui c'è questa carrellata occhio fate caso una cosa occhio attenzione fate caso a questo vedete questa qui è la sala grande la sala colorado quella famosa che abbiamo faccio vedere vedete questa vedete questa specie di scultura che c'è sulla sinistra fateci caso quando vedremo le altre immagini perché lì e il fulcro vedete che c'è una faccia con delle corna questa è la cena classica di denny che corre con il suo triciclo jack si sveglia jack si sveglia dalla mattina decide di scrivere e c'ha come vedete un'aquila e accanto c'ha un'immagine quasi totemica molto simile a quelle indiane questa è una famosa qui inizia diciamo il film vero e proprio inizia da qui qui incominciano le prime vessazioni di jack jack da qui incomincia a diventare passo qui sono passati un mese fateci caso c'è un'aquila questa è una vecchia macchina da scrivere nazista ma tante cose su internet e già potete trovarle su questo lo trovate fateci caso una cosa occhio vi ricordate quando vi ho detto di vedere quelle immagini a sinistra eccola qua jack per ammazzare il tempo perché non scrive per ammazzare il tempo lancia le palline ricordate la scena che lancia le palline e dove le lancia le lancia dove c'è una parete dove ci sono delle divinità sulla sinistra ci sono delle divinità dipinte una specie di dipinto sono due divinità con due guardiani lui lancia le palline lì e sotto c'è sempre questa immagine fateci caso un lampadario illuminato proprio dove c'è la statua state guardando ecco qui vedete c'è la statua e c'è sempre l'occhio al lampadario tutto sempre fate caso ai lampadari fate caso sotto guardate qua ci sono queste carrellate di jack che lancia sempre questa pallina dove la lancia fateci caso questa è un'immagine che merita attenzione nel cerchio vedete questo cerchio e dove morirà voi il film lo avete conosciuto lo conoscete e dove morirà il dick dove verrà ucciso da lui stesso alla fine del film guardate cosa fa jack lancia costantemente le palline a un'altra statua demoniaca molto strana e continua a lanciare le palle come una sorta di insulto verso queste statue continuamente poi troviamo nel cerchio dove morirà dick troviamo proprio l'oggetto che riferisce danny un orsacchiotto e poi c'è una palla la palla la vedremo spesso anche nella 2 2 2 3 7 il presagio che inizierà la 2 3 7 poi vediamo un orsacchiotto è lui che sfida questa entità è come se la sfidasse c'è un plastico del del labirinto dove in questo momento si trovano in tempo reale si trovano wendy e danny che stanno giocando nel labirinto mi sembra che nel libro non c'è il labirinto l'ha fatto mettere apposta stati pubblici loro giocano fateci caso a sinistra come vedete a sinistra trovate un triangolo verso l'alto che ha lo stesso colore riferito a wendy è un triangolo verso l'alto significa che si vuole oggettivare un'energia materica un'energia in questo caso negativa marziale deve essere indicata verso l'alto verso dio è una specie di tra virgolette reazione dalla parte di sotto come se fosse un vulcano questa era la visione che vedeva jack che era la visione del dio padre che vede tutto perché qua jack inizia a impazzire già da adesso e inizia a vedere dall'alto questo plastico come se vedesse il mondo vede loro due il dio padre che vede la madre e il figlio ma questo labirinto è particolare sono un sacco di geometrie guardate questo labirinto come vedete c'ha delle croci laterali vedete e al centro c'ha un'energia una definizione geometrica quadrata possiamo dire rettangolare le energie tondeggianti rappresentano anche la unità di misura dell'uomo come le sfere no il compasso il cerchio e l'uomo praticamente la definizione dell'uomo nello spazio l'energia circostante quando vedete qualcosa di lineare quadrato rappresenta un'energia materica ben definita che c'è coscrive tutto quindi loro sono imprigionati da questa energia visti dall'alto da jack rappresenta col triangolo verso l'alto rappresenta l'iniziazione del sacrificio che vuole fare jack questo vuole fare rito ecco qua qua è un'immagine molto complessa classica scena qua è la scena madre di di denny che cammina col triciclo gira l'angolo e noi assistiamo a una delle scene più inquietanti della storia del dell'horror dei film perché noi siamo spettatori di questa immagine noi seguiamo denny e tutto ad un tratto ci vediamo dall'alto vediamo queste due bambine che abbiamo capito che sono state sacrificate come vi ho detto prima occhio ai lampadari vedete che c'è ogni volta che c'è un'immagine dentro l'overlook hotel quando c'è un individuo che deve essere sacrificato o che deve essere abusato dell'energia demoniaca in questo caso ha un lampadario acceso fateci caso anche alle tre lucine in fondo addirittura è tutta una serie di particolari tutto fateci caso qua vedete qui denny ha la visione la visione di vedere ucciso assassinato le due bambine le bambine occhio perché non ci sono più i lampadari ma ci sono le luci dietro cioè noi qui dove siamo siamo dietro la finestra che si vedeva quindi l'immagine che sta facendo che ci sta facendo capire il regista è che noi eravamo qua e poi vediamo attraverso gli occhi di denny vediamo dietro quelle finestre vedete che c'è quella finestra dietro noi siamo là dietro è questo lo specchio e l'antro dove ci sono le bambine ammazzate le bambine morte perché qui non ci sono più i lampadari è tutto un con causa e poi c'è la scena in cui denny con un occhio si chiude e poi con l'altro vuole vedere ecco il duale ecco dove si trova lui si trova che con un occhio deve vedere e con l'altro uno in ombra uno in luce questo poi c'è sempre la scritta exit sopra le gemelle avete fatto bene bravo alessio stavo arrivando a questo c'è sempre exit in poche parole è un consiglio che viene dato dalle gemelle perché le gemelle dicono vieni a giocare con noi per sempre quindi in realtà quella è la via d'uscita per finire questo martiglio cioè in realtà le gemelle lo tentano per dire vieni con noi perché tutto il tempo queste gemelle continuano a dire vieni con noi vieni con noi e quella è l'uscita cioè dove tu puoi raggiungere finalmente la pace tra virgolette quindi è un tent è una tentazione quella che fanno le gemelle perché tutto quello che poi viene sacrificato là dentro acquista da nazione purtroppo ecco qua questa è la scena che vi volevo far vedere vedete che manca più cosa c'è che manca guardate fateci caso il lampadario questa volta è spento quindi non c'è più quell'energia luciferina ma manca la statua quella statua infernale che c'era quando jack tirava le palle ve lo ricordate scena iniziale tirava le palline da baseball e in questo momento cosa accade cosa ci vuole dire che l'energia che prima era lì e quindi si manifestava proprio in quel luogo adesso è dentro jack avete capito da questo momento jack diventa posseduto e che cosa abbiamo dietro le spalle di jack un sole nero vedete è un sole circoscritto da alcune direzioni e in quel momento jack diventa un demonio offende continuamente capisce e wendy capisce che c'è qualcosa che non va che è impazzito sta accadendo quello che è accaduto al guardiano precedente da questo momento si è fuso jack ha trovato la sua identità reale si è fuso al demone non è più un'entità umana è fuso anche qui cambia immagine ci sono dei problemi di neve lei si mette in contatto con la polizia vi ricordate la scena di quando si mette in contatto con la guardia forestale lei è vestita sempre da indiana guardate un po questa immagine interessantissima guardate qua le foto vedete abbiamo sempre quelle classiche foto ma abbiamo delle immagini tutte che guardano lei sono immagini sono sempre datate di quell'epoca ma a questo punto non non sono più fra di loro stanno osservando wendy come se la desiderassero come se la vogliono possedere anche loro che cosa fa praticamente lei vestita da indiana e guardate interpretiamo un po questo abbigliamento è un abbigliamento indiano quindi c'è sempre riferimento al cimitero indiano tutto questo ma c'è un dormiente uno che fa la siesta con dietro uno un cactus con due corna quindi qua si sta dicendo sotto c'è un overlook hotel se vedete c'è l'hotel il paesaggio dell'hotel addirittura c'è una tenda indiana sul braccio ma l'immagine di quel messicano che dorme con quella specie di cactus con due corna mi lascia pensare che l'entità in ombra si sta risvegliando questo è il presagio che mi lascia pensare ricordate come si chiamava le u guardate le guardie forestali ci hanno in alto accanto alla bandiera americana abbiamo u e s che sono le iniziali casualmente di sempre di steward hulman abbiamo sempre questi riferimenti di questa u e di questa s e li abbiamo visti anche col nome di steward hulman lo stesso direttore precedente accanto all'america la u potrebbe essere delle corne la s e il serpente quindi sono due entità luciferine sataniche e il film che ha avuto più riprese al mondo tutti gli attori sono andati in analisi perché lui ha fatto ripetere 400 volte ogni immagine dick lo sciamano ha pianto al prossimo film perché non riusciva più a lavorare ha distrutto psicologicamente tutti non volevano più lavorare con lui perché si è impegnato talmente tanto in maniera ossessiva per questo film che vi posso garantire che nessuno voleva più lavorare con lui perché l'esecuzione è talmente perfetta ma ha richiesto una follia di riprese le scenografie le scenografie le scenografie sono cambiate continuamente quindi il regista ha fatto tutto apposta ci ha messo anni per arrivare a questa perfezione a questi particolari e andate a studiare la storia di kubrick e poi vedrete riprese interminabili e qui abbiamo la scena la scena diciamo dove c'è la gold room famosa dove jack in una situazione di disperazione così perché io poi ve la faccio vedere in pratica jack va a fare visita alla gold room perché inizia a avere dei contatti familiari all'interno della struttura e qui incontriamo la figura di di lloyd lloyd chi è è una specie di guardiano non parla mai lo guarda fisso e lui gli confessa un po' di cose gli dice che io non ho mai toccato mio figlio come molto spesso come si fa al bar ma l'azione che ha jack perché jack all'inizio entra lì e non c'è nessuno allora tutti dicono vabbè se lo sta immaginando no è una presenza evocata da jack e lui inizia a parlare in termini familiari lloyd all'inizio non parla mai gli dà da bere ed è una figura molto particolare non dice quasi nulla la prima volta questa è la prima volta poi ci sarà la seconda qui abbiamo la scena ecco di dove lei c'è non lui a lei fa tutti i controlli della struttura lui non fa nulla lei pensa a tutto l'hotel quindi dietro se voi ci fate caso ci sono questo è un ufficio della cantina dove ci sono i la sala motori ecco fateci caso ci sono un sacco di immagini particolari ci sono le immagini intanto di due bambini lì sulla sinistra immagini di due bambini e poi ci sono delle immagini strane particolari poi c'è qualcosa riguardante steven king c'è una croce rossa ma lì a sinistra a destra ci sono delle donne legate c'è un'immagine di lilith e poi non si vede bene non sono riuscito a farla vedere bene c'è un'immagine demoniaca lì da quelle parti qui si risveglia jack qui c'è la scena fatidica dell'immagine della ecco qua un'altra cosa il danny sta giocando danny sta giocando praticamente con i giocattoli e guardate il pavimento questo ne parlò pure mazzucco all'epoca circa dieci anni fa ne parlò perché c'è l'immagine della pallina quindi il presagio che abbiamo visto prima della pallina vediamo rotolare questa pallina lui sta giocando e succede una cosa strana questa pallina arriva dal nulla ma guardate il pavimento il pavimento cambia è totalmente al contrario cioè dove la pallina stava passando si ferma e qui c'è la scena dell'apollo da 237 dicono che la distanza fra l'uno e la terra 2307 chilometri con te quindi che succede è come se stali cubi che ci stesse dicendo secondo teorici del complotto questa non è mia che praticamente pubblica stava confessando il fatto che lui ha lavorato sul progetto della finzione del fatto dello sbarco dell'allunaggio del sbarco sulla luna tu lui si occupò delle riprese gli venne consegnata una lente che costa sei milioni di dollari per fare questi film quindi molti sostengono che questa è una testimonianza di vedete che c'ha il bambino c'ha l'arraccio con scritto Apollo la testimonianza di Kubrick per riuscire a confessare a noi posteri che lui ha partecipato a questa finzione vedete questa è la camera 237 qui c'è un'altra scena c'è una scena particolare lui ritorna questa volta Jack e sì perché poi c'è poi vi farò vedere c'è la scena del fatto che Jack Jack entra all'interno della stanza o ho cambiato un po' alcune sequenze perché per essere un po' più logico cosa succede praticamente Jack ritorna nella gold room e questa volta la gold room è piena di gente la stessa gente che era rinchiusa quindi lui ha cambiato da quando è cambiata l'immagine del del pavimento Jack in questo momento è come se fosse dentro le fotografie diciamo nella dimensione dannata entra e fa una cosa stupenda intanto le Lloyd lui confessa che quando parla con le Lloyd fa guarda che io ho fatto un contratto come se si è venduto l'anima no e poi gli fa Lloyd Lloyd è un guardiano infernale in realtà lo paga e lui dice il denaro non serve qui paghiamo tutto noi ordini dall'alto Jack fa è un po' confuso dice ma come il denaro non serve perché in realtà il il denaro serve nel mondo esoterico nel mondo del diciamo il nostro mondo nel mondo dove si trova lui il denaro non serve più quell'energia materica non serve più perché lui in questo momento è dall'altra parte ok e lui qui incontriamo abbiamo la figura diciamo di Bill lui ecco qua la figura erigmatica praticamente come lo incontra finisce di parlare con le Lloyd che cosa fa e Bill volutamente gli fa cadere di sopra del del liquore una bevanda e dice sono spiacente fa il cameriere Bill venga con me in bagno venga con me in bagno che sistemiamo le cose faccio e fa no nel frattempo Jack fa una cosa particolare a Bill gli dà una pacca dietro sulle spalle quello è il marchio del diavolo se voi andate a vedere dietro la mano dietro la pacca praticamente c'è questo marchio del diavolo e quindi qua si comincia a pensare una cosa c'è una conversazione folle tra l'altro fate caso fate caso nel film la logica della stanza dove si trova il bagno non esiste se voi vedete il film andatelo a vedere loro entrano dritti devono girare a sinistra quindi il bagno sta dietro il bancone di Lloyd il bagno no loro fanno girano a destra e rigirono a destra quindi il bagno è come se fosse fuori il bancone quindi è un bagno che non esiste cioè come se io entrassi in una porta il bagno sta a destra invece faccio destra destra e mi ritrovo dove sono è un bagno inesistente altro errore voi fate caso a tutti questi particolari io non posso farvi vedere che i video sono sotto copyright però vedete la scena quando entrano destra destra è un bagno che non dovrebbe esistere c'è una specie di dialogo surreale dice c'è chi fa guardi che io so chi è lei e lui fa chi sono lei è Bill io ho visto sui giornali quindi ha mentito quando ha fatto il colloquio ho visto sui giornali quello che ha fatto lei lei ha ucciso tutta la sua famiglia e lui fa no non mi ricordo fa non mi ricordo assolutamente non quello che sta dicendo lei io sono stato sempre qui perché loro è fuori dallo spazio tempo poi dopo tutto un tratto fa e invece io so chi è lei lei è sempre stato il guardiano non sono mai stato io è sempre stato qui tutto il tempo perché io sono qui da tutto il tempo perché io sono qui da tutto il tempo quindi lei è il guardiano è un dialogo da folli tra folli poi tutt'altro tratto Bill scopre la sua vera natura Bill dice c'è dice negro c'è un negro che si sta mettendo in mezzo al nostro progetto lei deve fare qualcosa signor Jack e fa va bene cercherò di fare quello che mi chiedete quindi Jack in questo momento è come se fosse in lista d'attesa per diventare il migliore andiamoci piano piano non posso spiegarvelo adesso fate caso l'inquadratura di Bill due bianchi e lui al centro è l'unico posto dove è rosso ok fate caso agli sfondi qui c'è la scena poi Jack rientra in sala scena famosa dove lui sale le scale per uccidere Wendy perché Wendy si accorge che lui sta leggendo sta scrivendo continuamente la stessa cosa la scena che lui alla fine ha scritto una marea di fogli ma tutti uguali hanno scritto eh troppo lavoro e poco gioco rendono Jack troppo noioso troppo annoiato diciamo che molti ci hanno visto una figura molto nazista questa frase noi l'abbiamo tradotta il mattino c'ha con loro in bocca non lo so perché ma gli italiani l'hanno tradotto così lui che cosa fa sta per andare a picchiare Wendy che Wendy ha capito che lui è impazzito cerca di difendersi e lui mentre sale diventa rosso totalmente rosso e fateci caso la statua dietro non c'è più quindi lui sale e lei nel frattempo la nostra Wendy cosa fa si difende e lo picchia Wendy apparentemente sembra un personaggio molto debole ma in realtà è forte ha dei suoi punti perché quando deve difendere suo figlio lo picchia e lo fa cadere dalle scale e questa è la scena dove lui lo lei mette lui dentro lo lo imprigiona lo imprigiona dentro il il magazzino delle provviste lui si risveglia dentro ecco qui è la scena in cui Wendy si accorge di tutte le follie che lui ha disegnato che lui ha scritto il mattino c'ha con loro in bocca eh Jack è diventato noioso tutto il resto guardate cosa c'è sopra sopra di lei lo faccio vedere meglio sopra di lei ci sono un triangolo come vedete in alto e un triangolo in basso quindi che cosa succede il segnale qual è che si sono invertite le forze il triangolo solitamente rosso dovrebbe stare in basso e quello azzurro dovrebbe stare in alto qui si sono invertite le vostre perché l'overlook hotel è tutto invertito è un posto infernale quindi il triangolo va verso il rosso va verso sopra e lei si accorge di essere in mezzo all'inferno qui c'è la scena le ho cambiate un po' le sequenze le ho cambiate un po' però la scena di Jack che entra nella camera 237 perché viene a sapere che Danny è stato picchiato da una donna c'è un particolare la donna è in una stanza tutta verde questa qui è un po' particolare perché apparentemente la donna si fa vedere molto bella giovane l'energia verde rappresenta l'energia femminile l'energia della dea madre quindi è tutta un'apparenza per cercare è come una pianta carnivora lei questa entità fa tutto sì che sia bello questa qui è come se fosse un succubus è un'entità che apparentemente ti fa vedere qualcosa di bello ed è la più pericolosa di tutto l'hotel viene descritta anche nel libro mi sembra viene descritta come colei che prende per inganno gli altri li uccide proprio con questa posizione il triangolo lo avete visto ve lo faccio vedere in alto qua guardate dietro le spalle vedete ecco dicevamo poi un'altra cosa questo vedete il pavimento è tutto verde guardate guardate cosa cosa ci dice la tappezzeria vedete sotto la moquette è un'energia verde che viene sforata e sfondata da un'energia viola ed è tutto viola e verde l'energia verde che è molto armonica molto femminile cosa accade l'energia verde viene penetrata da questi falli viene penetrata da un'energia negativa che tra l'altro è il corrispettivo di questa entità questa entità fa finta di essere un'energia un'energia verde tranquillizzante ma poi un'energia negativa tanto che stava per uccidere il nostro Danny nel momento in cui c'è il momento in cui c'è l'immagine di Jack che viene attratto da questa donna e la bacia il momento in cui c'è il contatto con Jack l'entità dimostra la sua vera natura è un mostro è uno zombie ride e Jack impaurito e schifato scappa andiamo a noi Dick che nel frattempo è in vacanza si trova a casa sua e ha la percezione di Danny di che cosa sta accadendo guardate l'immagine che ci troviamo di fronte è che Dick a casa sua lo sciamano ha già i piedi dritti quando in tutte le antiche tradizioni anche le nostre quando si mettevano i piedi in un certo modo significava che era un presagio di morte lui sta guardando la tv di fronte a lui c'è un'entità benevola è la regina madre è la dea madre quindi lui lo sciamano che sta venerando la sua dea madre è una dea africana ha i seni esposti perché rappresenta anche la fertilità e in questo momento lui è in comunicazione con Danny perché Danny sta avvertendo che sta succedendo qualcosa di grave all'interno dell'hotel chiama la polizia dicendogli scusate io sono lo chef dell'hoverso dell'hotel non mi rispondono in hotel è successo qualcosa di grave fateci caso sulla sinistra c'è anche un'entità buona c'è un animale di entità bianca invece Jack alle spalle c'è sempre un'entità caprina, cornuta, nera lui c'è la bianca cosa accade praticamente? decide di partire se voi ci fate caso l'hotel, l'aereo che lui utilizza rappresenta qualcosa di volatile e lui guardate com'è vestito ha gli stessi colori dell'aereo gli stessi identici colori dell'aereo quindi è qualcosa che rappresenta il volo il volatile come vi riferivo prima lui si reca all'overbullo diciamo in hotel entra in hotel e vede che è successo qualcosa c'è il deserto c'è nessuno inizia a urlare fateci caso guardate qui i lampadari noi siamo nello stesso posto dove Jack lanciava le palline vi ricordate? dove c'era il triciclo di Danny fateci caso tutti i lampadari sono spenti l'unico acceso è dove c'è quel quadrato dove Danny aveva messo il triciclo in questo momento poi Jack che c'è la scena fatidica che lui prende spacca diciamo la porta di casa si ferma perché interviene salva Wendy viene salvata da Dick e quindi Dick sapeva di andare a morire e nel frattempo Jack che cosa fa? sferra un colpo di accetta allo sciamano e lo uccide sul colpo gli scoppia il cuore noi sappiamo che nelle antiche civiltà indiane il cuore invece era sacro veniva mangiato non veniva spaccato ucciso e ferito perché serviva poi per fare il rituale per mangiare il cuore invece lui viene annientato all'altezza del cuore quindi non avrà neanche quello non è un aspetto di caccia come avveniva negli indiani d'America questo è un sacrificio bello e buono viene ucciso e tra l'altro fateci caso viene ucciso e c'è sempre quell'entità frontale dove Jack lanciava le palline viene ucciso lì e nel frattempo il nostro Tony si risveglia perché questo non è Danny è Tony che scrive al contrario perché è in un'altra dimensione in questo momento Tony è nella dimensione dove c'era Jack ok? e quindi per questo scrive al contrario poi c'è l'effetto dello specchio sì ma c'è anche un discorso che mentre Danny sta nella nostra dimensione Tony in quel momento è come se fosse imprigionato e parla al contrario ok? e qua rivediamo l'orso c'è la scena classica scena di dove c'è la scena questa l'hanno interpretata in tanti modi perché quando il bambino inizia a scappare la madre si sveglia va per tutto l'hotel e vede i morti vede tutta la gente che si risveglia cosa è accaduto? nel momento in cui Jack fa il sacrificio e uccide lo sciamano si risvegliano tutti i morti cioè è come paradossalmente una vittoria ok? l'unica cosa che manca è l'obiettivo finale manca ho saltato una scena poi magari ve la faccio vedere vediamo se riesco a farla vedere Jack c'è la scena del labirinto il bambino inizia a scappare Danny lo rincorre e si rifugia nel labirinto qui c'è la scena che molti hanno detto che è trasmutata al minotauro il minotauro con il fatto che uccideva le persone quindi c'è la classica storia diciamo del mito greco del minotauro e del labirinto dove è sempre un richiamo al toro a qualcosa di di luciferino qui Danny riesce a vincere con la furbizia l'astuzia perché mentre Jack segue le impronte per prendere suo figlio Jack e Danny cosa fa? torna sui suoi passi perché la salvezza sta molto spesso nel tornare sui propri passi con astuzia Danny riesce a scappare a superare il padre che il padre rimane imprigionato nel labirinto e c'è perché questa scena? Perché Jack fa questa fine? Perché viene ibernato all'interno del labirinto? Questo è un riferimento dantesco intanto guardate l'immagine che Jack ha un aspetto demoniaco ma soprattutto guarda verso l'alto l'odio che c'ha verso Dio quindi lui è imprigionato in questo mondo e qui c'è una scena se voi ci fate andate a leggere Dante quando Dante nel 32esimo o 33esimo canto mi sembra non mi ricordo che è il canto dell'inferno è l'ultimo dell'inferno lui fa visita a Lucifero Lucifero si trova all'interno di una calotta di ghiaccio non è nell'inferno fuoco fiamme c'è ghiaccio il stesso riferimento Jack muore ibernato come se fosse congelato lì imprigionato e qui c'è la scena fatidica che molti hanno indicato Jack c'è un particolare alla fine del film si vede un'immagine di questa carrellata di queste persone e dentro c'è Jack in queste fotografie 21 fotografie ci sono praticamente c'è Jack dentro imprigionato non hanno mai dato una spiegazione reale al finale di questo molti ci hanno visto la posizione che ha Jack è molto luciferina molto bafometto vedete lo richiama moltissimo ma scusate c'è un altro particolare che vi voglio fare vedere scusate ve lo ve lo riprendo c'è un particolare interessante nella dissolvenza appare un terzo occhio quando c'è la dissolvenza fra Jack che si sta avvicinando all'inquadratura c'è una dissolvenza incrociata fra l'immagine diciamo precedente e l'immagine poi del primo piano di Jack si crea un terzo occhio che viene fatto sull'unica figura che non ride in tutta la foto ci sono persone serene tranquille l'unico spaventato l'unico con una faccia quasi di reazione si crea un terzo occhio sotto c'è Jack sotto questa immagine c'è Jack e qui c'è la scena del 4 luglio che si festeggia 1921 ora andiamo un po' un po' la logica diciamo andiamo un po' cosa accade praticamente cosa ci sta raccontando Kubrick ci sono una serie di sfaccettature un sacco di piani di interpretazione c'è chi ci vede quella psicologica la violenza del bambino c'è chi ci vede il nazismo io ci vedo il tentativo di Kubrick di raccontarci che in un certo periodo è avvenuto qualcosa che sia stato in Germania non si sa la storia intanto è una protesta questa vera del fatto che della fine che hanno fatto storicamente parlando gli indiani d'America che sono stati relegati nella loro terra sono stati relegati da noi bianchi sono stati relegati all'interno di colonie e c'è questa protesta ma vediamo la storia la storia ci dice che è successo qualcosa è stato profanato un cimitero gli indiani fino al 1900 hanno cercato di prenderselo fino a quando poi si sono estinti cioè si sono estinti prima gli indiani e non sono riusciti ad arrivare alla loro battaglia di sconfiggere in pieno cantiere l'edilizia e la mostruosità che l'occidente porta succede che in realtà secondo me il cimitero evoca del male cioè nel senso la reazione dell'aver profanato questi morti che evidentemente erano sacri non solo erano individui diciamo umani evidentemente c'era qualche anche divinità che riposava all'interno di quel santuario di quel cimitero nel 1921 evidentemente lì è stato fatto un rituale così come molto spesso vengono fatti in alcuni luoghi dai bianchi non diciamo non curanti del fatto o meglio secondo me il film ci vuole dire che volevano rievocare questi morti che non trovavano pace quindi il cimitero è stato profanato da noi nel 1921 è stato fatto un rituale dove questi individui hanno rievocato e risvegliato certe entità negative questo è quello che ci vuole dire il regista con questa storia Jack in realtà dà i dialoghi che fanno insieme agli altri all'entità morte è come se si conoscessero Billy il vecchio guardiano non si ricorda più della sua vita precedente perché lui ha fatto sempre quella vita lì dice io qui ci sono sempre stato secondo me queste anime quando hanno fatto questo rituale ogni volta che si incarnano si incarnano in questa terra e quindi Jack è un'anima precedente incarnata nell'anima degli anni 70 di questo scrittore di questo padre di famiglia e non a caso lui ha fatto un figlio così particolare perché è un figlio che deve fare da guardiano come lo faceva Dick quando Dick lo sciamano faceva da protettore finendo il suo percorso e la sua morte ok lui praticamente è degna adesso che deve fare da guardiano e lo fa con suo padre in poche parole le anime si ritrovano sempre lì dentro se immaginate che io nel 1921 faccio un rituale del genere le anime un rituale satanico le entità si prendono la mia vita io muoio rimango imprigionato all'interno delle immagini io rinasco ma rinasco in questa terra sempre così con la stessa anima non fa un riciclo ascetico rimane qui io rifaccio la mia vita e vengo attratto dall'overlook hotel tutte le anime si devono ritrovare lì come Billy come Jack devono fare questo devono fare sacrifici per poi ritornare di nuovo alla loro vita iniziale del 1921 ecco perché poi noi rivediamo di nuovo Jack nella fotografia che ride al centro di tutti come se lui fosse il capo perché lui ha fatto una cosa che è passata in sortina che gli chiedevano quelli dell'aldilà Billy e gli altri gli chiedevano costantemente che il negro doveva essere ucciso perché era lui che gli impediva di vivere di continuare a sopravvivere all'interno dell'overbook hotel perché lui li arrestava li faceva rimanere in quella dimensione invece loro volevano vivere anche in questa dimensione e quindi cosa fanno Billy quello precedente va all'overbook hotel uccide la sua famiglia perché fa un sacrificio ecco perché Jack deve uccidere la sua famiglia perché deve uccidere Danny che è il futuro Dick che gli dà fastidio cioè le luccicanze nascono per equilibrio cioè quindi più l'overbook hotel è satanico e più nascono luccicanti per equilibrare le cose per tamponarli cioè come se fossero dei messaggeri divini che cercano di contrastare le energie negative che vengono evocate dall'hotel cioè l'hotel è una specie di parallelo di limbo infernale questo è si è creata attraverso questo rituale gigante che è stato fatto secondo me non a caso hanno costruito sopra il cimitero lo sapevano per rievocare quelle energie per ottenere un portale che permettesse all'overbook hotel infatti dove ci sono le candele illuminate ci sono i morti e che cosa fa Jack? Jack uccide lo sciamano al cuore e viene premiato all'interno dell'overbook hotel tanto da diventare il capo è come se fosse il satan il lucifero che si è dimenticato di esserlo ritorna all'overbook hotel per riscoprire quello che è ma deve fare un sacrificio e il sacrificio lo fa deve uccidere i lucicanti per mantenere l'equilibrio in sostanza Jack ha perso nella vita nostra nel nostro mondo ma nella dimensione ha vinto Jack non è stato dannato è stato rimandato lì quella scena del ghiaccio ecco che cos'è l'overbook hotel si è trasformato in un portale che non ha più eredi e si e ritornano praticamente di nuovo a fare la loro stessa vita perché sono dei corrotti che rimangono a incarnarsi sempre Jack o chi per lui Bill in un'altra vita ritornerà e dovrà rimorire lì ma si porterà presso i familiari per il sacrificio per mantenere e alimentare questo mostro che è questo hotel è questa l'essenza di Shining perché non si spiega non sono mai riusciti a dare una logica la logica è quella la gente si rincarna con la stessa anima senza avere pulizia è un'anima corrotta che si rincarna prende materia in questo mondo nel tempo e ritorna di nuovo perché Jack quando cammina è come se lì ci fosse sempre stato si guarda attorno e fischietta ma che senso ha non si capisce perché Billy noi lo vediamo come cameriere invece era un guardiano perché perché non è mai stato guardiano nessuno là è mai stato guardiano gli danno questa icona nella vita esoterica ma nella vita del limbo loro sono dei dannati e continuano a vivere ritornano a quella vita del 1921 è come se vivessero queste anime due vite una vita nell'aldilà e sono costretti a vivere in questo girone infernale ma cercano di rincarnarsi nel nostro mondo per ritornare a fare rituali per dare energia alla parte limbica alla parte loro questo è il senso di Shining e in mezzo trovano Danny e trovano Dick che sono i guardiani che cercano di equilibrare le cose rispedire loro senza vittime come se loro si rincarnassero per prendere energia e morti e questo glielo impedisce la luccicanza ecco perché la luccicanza ha i poteri perché sono gli unici che riescono a capire chi è incarnato e chi non lo è perché vedono i morti vedono la linea dei morti è un loop senza fine sì è come se fosse un loop dall'altra parte sono destinati a vivere quel mondo perché sono dannati che hanno fatto quel rituale lì dall'altra parte cercano di prendere forza e addirittura diventare i capi di quella parte lì infatti Jack diventa il capo uccide uno sciamano uccide il capo della luccicanza che era lì apposta per cercare di tenerli è un film di una bellezza a me viene la pelle d'oca mi viene la pelle d'oca perché un film dopo 40 anni che riesce a dare queste emozioni è arte arte pura lasciamo stare il genere magari può piacere un po' piacere il titolo in che senso Shining è la luccicanza è quello che ho detto prima la luccicanza sono i guardiani che devono fare in modo che l'Uverbook Hotel non abbia mai l'equilibrio dall'altra parte cioè loro si rincarnano i demoni le anime dannate cercano di rincarnarsi in questa vita per ritornare di nuovo in hotel prendendo energia sì sì brava Elisabetta è lo stesso sistema Stranger Think ha lo stesso sistema solo che avendo avendo praticamente e fateci caso c'è un documentario bellissimo sai che cosa hanno fatto non so se lo sapete hanno messo il film dall'inizio alla fine e l'hanno invece l'hanno sovraesposto con una pellicola al contrario del film cioè hanno messo al contrario il film dall'inizio alla fine e l'altro dalla fine all'inizio e le hanno sovrapposti sapete che appare alla fine Jack con i baffi di Hitler giuro andate a vedere questo documentario che è fantastico quindi se voi mettete il film uno sopra l'altro qual è il significato? il significato è due dimensioni legate quindi cosa fai? mi ricorda molto il mondo di sotto sopra di Strange and Think l'ho già fatta quella di Ice White Shot l'ho già fatta andatela a vedere quindi e c'è da dire anche un'altra cosa ciao Barba c'è da dire anche un'altra cosa questo è un film che parla di entità è un film paranormale non è un film horror questa è la prima testimonianza che Kubrick ci dà di paranormale nel film se voi vi ricordate la scena di quando rimane infrigionato Jack viene liberato viene liberato dall'entità cioè e questo è un film paranormale perché il film gioca sul fatto di dire sono pazzi o non sono pazzi sono pazzi o non sono pazzi ma quando Jack si libera da solo e viene liberato dall'entità qui sì qui arriviamo al paranormale questo è un film che ci spiega benissimo come i sensitivi possono purtroppo nella vita possono incappare a delle entità che non sono positive per questo non è da tutti avere la luccicanza e per questo vi dico sempre io evitate di fare certe cose se non siete con degli esperti perché potrebbe potrebbe capitare a tutti quello che è successo nel 1921 all'Overbook Hotel potrebbe capitare a chiunque questo è il messaggio Stregia Think ci sta raccontando le due dimensioni sotto sopra è quello che Stanley Kubrick non avendo le tecnologie e gli effetti speciali ha cercato di darci con la pellicola quindi io lo trovo nettamente più geniale Stanley Kubrick perché ci ha raccontato due mondi paralleli facendoci un individuo un profano vede Stanley Kubrick che fa degli errori ma com'è possibile sbaglia sceneggiatura e la scenografia cambia ma sono errori tremendi no è tutto voluto tutto voluto vedete questo film troverete tante simbologie incredibili andate a vedere gli orari delle lancette corrispondono ogni periodo che succede corrisponde a un orario perfino quando lancia le lancette Danny le prende in un certo modo e prende sempre il 4 il 6 cioè ci sono dei particolari infernali scusate ma dovremmo stare qui 5 ore 5-6 ore a fare analisi per ogni frame ve lo giuro è un lascito di una grandezza incredibile non c'è un film così non esiste un film al mondo così e credo che non esisterà mai una cosa del genere ve lo posso giurare vedetelo con questi occhi e la storia ci stanno raccontando Kubrick ci ha lasciato una grande testimonianza il fatto che abbia legato il Molocco alle bambine che ci sia il progetto Monarch e ora vi faccio una domanda non vorrei che quello che è successo nel 1921 forse in Germania il progetto MK Ultra sia stato avvallato da una ricerca di certe entità e vocazioni sataniche non vorrei che ci stesse dicendo questo e il fatto di vedere tutte queste aquile e la macchinetta del nazista tanti riferimenti nazisti e se fosse questo e se ci stesse dicendo che il progetto della manipolazione mentale non è altro che un tentativo di aggraziare abbellire l'entità di qualche signore che è stato evocato in quell'epoca non lo so non lo so mi... come... ditemi cosa ne pensate eh Stephen King sa troppe cose ma in questo caso Stephen King non c'entra nulla oggi ne parlavo con Alessio uno della nostra chat della community che lui diceva ma come mai tutti i libri di Stephen King sono riferiti a bambini con doni tutti i film Carrie lo sguardo di Satana la torre nera e Hit che i bambini hanno poteri sempre i bambini con i poteri Shining c'è anche il bambino con i poteri perché? perché i bambini sono il futuro sono la purezza e il dono che lui gli dà questa specie di fantascientifico non è altro che la salvezza King è costantemente dichiaratamente ossessionato di esporci che la salvezza sta nei bambini perché sono quelli incorruttibili sono quelli lontani da noi ancora adesso dalla corruzione che possono salvare il mondo tutti i libri di Stephen King hanno un unico comune denominatore quello che i bambini hanno i doni nei film ma nella vita sono coloro che salveranno il mondo e noi siamo l'ultima cosa a cui pensiamo questo è dietro il film horror di King c'è questa la speranza grazie Ivano il documentario si chiama Room 237 grazie ecco mi chiedo se è ispirato a una storia vera io sono convinto che Kubrick sapeva delle cose o è venuto a conoscenza di cose e ce l'ha raccontato attraverso il film non è un film e basta questo è un film non è un film come tutti gli altri Shining è un film diverso da tutti credo addirittura io alle volte sono arrivato pure a pensare che non era un film era qualcosa di più sì Foscai comunque io ho terminato la mia analisi spero che mi sia piaciuta siamo stati in tantissimo se vi piace il mio lavoro come sempre vi dico c'è la possibilità di sostenere il canale e se vi ho dato cosa che vi possa far far accrescere i propri studi le proprie analisi lasciatemi qui nei commenti cosa ne pensate mi piacerebbe saperlo e e se voi siete arrivati anche a queste conclusioni vedendo questo film o vi siete accorti anche di tante altre cose perché c'è tanto da dire in questo film qui si dovrebbe fare se non meno studio di ricerca su questo film proprio fare dieci persone venti persone si chiudono per una giornata intera a fare studi su questo film per vedere un po' cosa voleva dire fatemi sapere nei commenti vi ringrazio per essere stati in tanti grazie di cuore perché questo è il mio film preferito quindi il fatto di averlo condiviso con voi in diretta per me ha avuto è stato un valore aggiunto per me grazie per l'affetto sempre che mi dimostrate e ci vediamo alla prossima e vi garantisco che ho in mente anche un'altra analisi particolare mi piacerà anche quella niente cosa dirvi grazie di cuore ci vediamo alla prossima in che senso di qualcosa di qualcosa ho già detto tutto sono due ore che parlo fatemi sapere nei commenti un abbraccio oppure ci vediamo su telegram su telegram c'è la possibilità di commentare chi diciamo chi lo ritiene opportuno possiamo fare degli approfondimenti lì anche domani possiamo mandarci dei vocali vi saluto un abbraccio buonanotte